Sei anni fa il terremoto in Basso Molise, i paesi più colpiti, Montecilfone, Guglionesi e Palata, ma l'area è interessata, comprese 21 centri. La ricostruzione tra pubblico e privato resta lenta. Negli ultimi mesi, ha detto il sindaco di Montecilfone, Giorgio Manest, c'è stata un'accelerazione, ma c'è ancora molto da fare. Abbiamo richiesto tecnici in supporto, ma nulla, c'è bisogno dell'impegno di tutti. Non è un problema di finanziamento, ma a quanto pare di burocrazia e di stesura di progetti. Nei paesi più danneggiati la ricostruzione complessiva non è neppure alla metà. Ad Acquaviva con le croce, Castelmauro e Montecilfone c'è ancora attesa addirittura per la ristrutturazione della chiesa. Proprio a Montecilfone un centro polifunzionale è stato adibito a edificio religioso. Lì il prete dice messa ormai da anni e anche il municipio attende i lavori come a Palata. La situazione non è quindi tollerabile. Ci sono anche attività commerciali che aspettano il ripristino della struttura. La speranza è ora aggrappata perlomeno a quei cantieri aperti e ne sono diversi nei vari centri danneggiati dal sisma. Lavori, che è l'auspicio, possono essere ultimati in breve tempo. Resta però il fatto che molti sono quei cantieri da approntare ancora per l'inizio degli interventi. Grazie. 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 Grazie.